La ricerca ha sempre rappresentato la mia passione e poterla affiancare alla pratica clinica mi permette di applicare ogni giorno le più recenti innovazioni e le evidenze scientifiche al mio lavoro. Sono Cristina Jurakivska, provengo da Leopoli, Ucraina. Attualmente sono ricercatrice in malattie odontostomatologiche presso l'Università di Foggia. Inoltre svolgo la pratica clinica presso la clinica odontoiatrica della stessa università. La mia esperienza presso l'Università di Foggia è iniziata con la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentarie. Poi ho deciso di proseguire con il dottorato di ricerca in medicina traslazionale. Questo mi ha permesso di confrontarmi con tanti colleghi sia della nostra università che degli altri atenei italiani. Inoltre un'esperienza di vita importantissima è stata quella di trascorrere un periodo di formazione all'estero, in particolare il mio stato in Finlandia presso l'Università di Uru. Liberate il vostro potenziale seguendo con audacia le vostre inclinazioni e dando valore all'esperienza formativa. Unifg Talent Space Unifg Talent Space